Isola dei famosi 2018, Avenger non molla, in me cresce la forza e il senso di giustizia. Non mollo. Avenger non demorde il canna gata e continua a riempire le pagine social. Questa volta l'attrice ungherese decide di rivelarsi sul settimanale Oggi, ribadendo ancora una volta di non voler mettere ancora un punto sulla faccenda. Non solo ha confermato tutte le prove, che sino a ora sono state raccolte e che dimostrerebbero non solo la colpevolezza di Francesco Monte ma anche la connivenza dei compagni di viaggio, aballorate ultimamente dagli audio di Nadia Rinaldi, ma ha voluto ancora una volta specificare che in lei. Cresce la forza e il senso di giustizia. Non mollo. Mollare adesso sarebbe sciocco, se cominci e non dici bugie non bisogna temere nulla. Diciamo che un certo sistema ha paura della verità. Chiunque ora al mio posto si fermerebbe. È talmente pesante convivere con l'ipocrisia, che pochi resisterebbero come sto facendo. Ma la spinta verso la verità mi anima, più sento menzogne, più tiro dritta. Me ne tornerò da dove sono venuta, certamente. Sono indignata, ma la parola fine la scrivo io, quando decido io. Ciao. 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 Ciao.